Allora, applauso alla domanda perché ha saputo interpretare quello che sta nella testa di quasi tutti i colleghi che sono qui oggi, quindi se rispondo a questa domanda nessun altro mi fa un'altra domanda su questo, intendiamoci, vabbè. Allora, effettivamente, noi abbiamo conseguito tre, direi, tre gran risultati. Il primo è che abbiamo reso l'Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo. Il secondo è che abbiamo consegnato in tempo il PNRR e il terzo è, come ho appena detto, abbiamo raggiunto 51 obiettivi e quindi abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul PNRR è continui. Quindi il Governo ha creato queste condizioni, indipendentemente da chi ci sarà. L'importante è, ovviamente, le persone sono sempre importanti, ma l'altro aspetto, l'importante è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo Governo ed è la più ampia possibile. È una maggioranza che voglio subito ringraziare molto perché capisco benissimo che non è facile per i partiti politici lavorare insieme con idee spesso diverse, con punti di partenza drammaticamente diversi in certe circostanze. Eppure questo sforzo è riuscito. Grazie.